Abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma cogliere l'occasione per poter aiutare in concreto uno o più dei nostri fan. Quindi non donare a una Ollus, ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi. Quindi in sostanza abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare a questa raccolta fondi. Quello che vi chiediamo è di mandare un'email a charity at veferraniets.com, lo scriviamo anche sotto. E di sottoporci le cause che secondo voi sono meritevoli di un supporto e di un aiuto. Quindi da quelle noi le leggeremo tutte, selezioneremo quelle secondo noi più meritevoli, quelle che hanno più bisogno del nostro aiuto e le nostre donazioni andranno direttamente a quella persona. La cosa è che volevamo aiutare in concreto una persona, uno dei nostri follower. Una causa specifica. Una causa specifica e speciale. Quindi scrivete un'email se avete una causa da sottoporci a charity at veferraniets.com A presto!